Il decreto rilancio prevede la possibilità di ridurre l'IMU e altri tributi locali. Lei ha portato la questione in Consiglio Comunale a Teramo. Sì, oggi ho presentato un'interrogazione all'amministrazione su questa possibilità che il decreto rilancio dell'anno scorso prevede, cioè che a fronte della domiciliazione bancaria a debito sul conto corrente del pagamento dell'IMU ma anche per altri tributi locali vi è la possibilità di uno sconto fino al 20%. Il Comune deve recepire la normativa e deve stabilire con apposita delibera la misura dello sconto, cioè perché la norma dice fino al 20% e il cittadino deve autorizzare l'addebito. Questo ha un duplice vantaggio in questo particolare momento storico per i cittadini, per le attività commerciali, per i professionisti di una sensibile riduzione dell'importo del tributo e per le casse comunali la garanzia del pagamento, dell'immediata liquidità e quindi del gettito immediato. Il Comune come deve intervenire? Il Comune deve intervenire con una delibera in cui stabilisce appunto di recepire questo articolo 118 terre del decreto rilancio, stabilire la modalità della riduzione e il tributo sul quale andarlo a applicare perché è prevista per l'IMU ma è estensibile anche all'Atari o anche altri tributi comunali. Lei dunque ha presentato questa interrogazione per chiedere un intervento del Comune, cosa hanno risposto? Ma questo nell'ottica di un'opposizione costruttiva e fattiva che Fratelli d'Italia fa, l'amministrazione ha risposto che è a conoscenza ovviamente di questa normativa, della facoltà di poterla fare, che non è un obbligo ma che si stanno adoperando per vedere di poterla recepire al più presto. Io ho sollecitato che questo venga fatto soprattutto nell'ottica del prossimo pagamento dell'IMU di giugno e l'assessore di Padova appunto mi ha riferito che gli uffici stanno prevedendo questa possibilità. Attualmente ci sono ancora dei piccoli ostacoli legati per esempio per il pagamento dell'IMU perché la norma prevede il pagamento tramite F24 e non tramite domiciliazione bancaria. Un ostacolo che potrebbe essere superato già dal primo marzo con l'effettiva partenza del pago PA che è la modalità con cui tutti i cittadini possono pagare i tributi della pubblica amministrazione e quindi anche l'IMU mi hanno detto che faranno così. La mia sarà una posizione attenta nei prossimi mesi affinché questa normativa venga recepita a vantaggio dei cittadini ma anche delle casse comunali.